Alleanza democratica a sostegno dell'Avvocato Luigi Mennella. Questa coalizione è la vera alleanza democratica. Tutti i solidaristi, tutti i riformisti, tutti coloro che guardano avanti piuttosto che guardare indietro, guardando soprattutto alle nuove povertà e ai nuovi disagi, sono in questa coalizione. È il meglio che Torre del Greco potesse avere. Questa città deve partire da quel che è una città meravigliosa, una città che va valorizzata nelle sue esperienze positive che nel corso degli anni ci hanno imposto all'attenzione di tutte le altre città. Avvocato Gennaro Torrese si torna in campo. Come si preannuncia questa competizione elettorale? È una competizione elettorale che si preannuncia molto ravvicinata nei tempi ma anche come schieramenti. Mi pare che ci sia una bella battaglia dove le forze in campo si misurano forse con poco distacco di voti. Io con il mio movimento Loma Civitas sono qui, ho i miei candidati che abbiamo inserito nella lista di alleanza democratica e l'abbiamo fatto per dare il nostro contributo di civismo, di preparazione, di serietà. Candidiamo due giovani avvocati che hanno voglia di darsi da fare e di farlo nel migliore dei modi. Cure Torrese è nuovamente in campo. Abbiamo lasciato, o meglio non è che abbiamo lasciato, siamo ripartiti dove abbiamo lasciato cinque anni fa. Il rinnovamento già cinque anni fa noi lo volevamo portare in Consiglio Comunale, cinque anni fa ci abbiamo provato con tutte le nostre forze, lo riproponiamo nuovamente quest'anno. Perché la scelta di sostenere Luigi Mennero? Perché è una persona per bene, è una persona per bene che ha deciso di mettere una linea netta, uno spartiacque preciso, netto, tutti noi da un lato, tutti gli altri dall'altro lato. Siamo in campo come persone per bene per portare avanti un programma di governo che non è il libro dei sogni ma è un programma di governo che sarà realizzabile nell'arco dei cento giorni appena ci daranno l'occasione di governare questa città. Per le persone e la comunità è una rete regionale, una rete politica regionale e noi a Torre dei Grechi abbiamo un circolo territoriale che è stato il primo costruito in questa rete che è nata in occasione dei regionali del 2020. Abbiamo fatto un percorso di tre anni il cui risultato è la formazione di questa lista che coordino che comprende un ventaglio vario di persone che hanno profili professionali di competenze diversi, molto ricco e che credono nella necessità di un impegno politico pur venendo tutti da altri settori, sostanzialmente dall'ambito del volontariato associativo. L'avvocato Luigi Mennella è una persona che ha un profilo credibile e ha messo insieme una coalizione che è molto credibile e che sicuramente può esprimere un governo coeso e in grado di operare e quindi di realizzare tutti quegli obiettivi che noi abbiamo sognato in questi anni e che sicuramente avranno una ricaduta sulla qualità della vita di tutti. Gabriele Toralbo scende di nuovo in campo per questa sfida elettorale a sostegno del candidato sindaco Luigi Mennella. Perché la scelta di candidarsi? La scelta di candidarsi è una scelta obbligatoria. La città è rimasta per un po' di anni ferma su alcuni temi e abbiamo l'urgenza e la necessità di riportarli nel dibattito politico. Noi crediamo nell'inclusione. Inclusione significa attenzione ai diritti di chi molte volte viene dimenticato ma anche attenzione a quella fascia della città che per questioni culturali ed economiche ormai è rimasta veramente ai margini. Non dimentichiamo che lei in passato si è tanto battuto a salvaguardia dell'ospedale Maresca. Questo sarà un tema su cui lavorare? Abbiamo un contatto diretto con la regione Campania e abbiamo un'interlocuzione più diretta. Se questa amministrazione, questo sindaco Mennella e questa coalizione riesce a diventare la forza che guida la città sicuramente faremo tanto per riportare al suo livello l'ospedale Maresca perché la questione della sanità pubblica non deve essere più una questione di quartierino dove noi litighiamo magari anche con Bosco che oggi ha dei problemi ma dobbiamo creare una rete in grado di servire in maniera adeguata tutto il territorio perché il diritto alla salute è una roba che non si tocca. Il Partito Repubblicano è stato in verità il primo o uno dei primi ad individuare in Luigi Mennella la figura giusta per riportare Torre del Greco a un livello di vivibilità e di progettualità degna del nome della città. In questa battaglia abbiamo rafforzato la nostra presenza insieme agli amici moderati e da questo punto di vista non posso essere che felicissimo di avere con me il presidente uscente del Consiglio dell'Ordine, Luisa Liguoro il consigliere Ciro Accardo, Salvatore Gargiulo, Mario Borrelo e tanti altri. Il nostro scopo è di portare la competenza e la professionalità tipica di partiti politici. Noi riteniamo che Torre del Greco si salva se riesce ad avere i giusti collegamenti con provincia, regione e governo che possano far sì che finanziamenti, progetti ed impegni assunti possano essere portati a frutto della città, altrimenti da soli non riusciremo. Valerio Ciavolino per Torre a sostegno del candidato Luigi Mennella. Decisamente sì e credo che ci sia la necessità di un cambiamento anche se io provengo da un'estazione di centro che guardava più a destra ma credo che questa città al di là degli esmi debba mettere in campo le forze migliori e questo è uno dei motivi per il quale sono transitato in questa coalizione con il candidato sindaco Mennella. Tutte le competizioni elettorali sono sempre difficili quando si iniziano credo che però il palterre del centro-sinistra sia oggi valido per affrontare i problemi della città e quindi credo che la stessa città possa leggere con attenzione questo cambiamento.